Elezioni Albenga, finalmente si va uniti anche ad Albenga dopo qualche battibecco che sembrava essere forse più da parte nostra che da parte forse dei partiti in modo particolare. Calleri, sindaco, qual è la sua carta vincente? Beh, che è una persona di Albenga che ama Albenga, ha sempre vissuto qua, è una persona che conosce bene i problemi del territorio, che ha fatto la sua davetta e la sua esperienza anche delle esperienze importanti e perciò è la persona moderata che può dirigere questo comune conoscendo le vere esigenze di sicurezza, di impegno che bisogna metterci per portare Albenga a essere quello che merita. Cioè la seconda città della provincia di Zamora. Sicuramente sulle polemiche avete già risposto voi perché non ci sono, siamo uniti, siamo una grande squadra e porteremo a casa secondo me un grande risultato.